Sappiamo che è un avversario ostico, ma detto questo a noi ci deve interessare poco, la mentalità che ci deve contraddistinguere è quella di provarci sempre dove i calciatori siano protagonisti e quindi noi metteremo in campo la stessa mentalità con la quale avete visto il Teramo nelle prime uscite stagionali. Sappendo che tutto ciò può anche non bastare, però l'unica cosa che chiederò alla squadra è quella di non avere rimpianti al novantesimo, noi dobbiamo fare tutte le cose che abbiamo provato, ognuno di loro deve esprimersi al massimo delle proprie potenzialità, poi se al novantesimo gli avversari saranno stati più bravi gli daremo la mano, però prima di batterci o di precluderci di farci risultato sicuramente troveranno un Teramo che sul campo vuole provare a vincere la partita, a fare sicuramente una prestazione molto positiva, ma serviranno intensità, soprattutto serviranno ritmi di gioco superiori a quelli che abbiamo espresso nelle prime uscite, dobbiamo costringere o provare a costringere Lentella a fare una partita che non gli appartiene e quindi dovremmo cercare di far correre la palla veramente con grande qualità e con grande velocità. Se quei grandi calciatori di cui dispongono, riusciamo a metterli sulla difensiva, molto probabilmente potrebbero emergere anche delle lacune. Detto questo sappiamo che è difficilissimo. Sono abituato a pensare con quello che ho in casa, pensare ad avere dei calciatori che poi non hai, rischieresti di buttare via delle energie che sarebbero un regalo per gli avversari. Noi dobbiamo concentrarci su questi calciatori che fino ad oggi stanno rispondendo benissimo a quelle che sono le nostre richieste e soprattutto mi stanno soddisfando per, come vi ho detto prima, per impegno, qualità, intensità. Vi ho già ripetuto anche nell'ultima conferenza che è sotto gli occhi di tutti che abbiamo delle posizioni in cui mancano dei calciatori, ma come tutti gli allenatori e come tutte le società il mercato chiude il 31 e le opportunità si possono aprire anche nell'ultime ore di mercato. Quindi non dobbiamo farci prendere dalla frenesia o dalla fretta perché è brutta consigliera in qualsiasi ambito, in qualsiasi ambito lavorativo e quindi se conviene aspettare, aspetteremo. Poi se non arriveranno faremo con quelli che abbiamo, se arriveranno io sarò l'allenatore più felice del mondo. No, Valentini non è convocato perché dal punto di vista tecnico tattico e societario non fa parte del progetto tecnico di questa stagione. Le valutazioni sono state fatte su altri portieri, quindi non sarà convocato come non era convocato nella prima uscita ufficiale di Coppa Italia. Riccardo, sì, Riccardo è convocato e si giocherà il suo minutaggio in base a quello che dimostrerà durante la settimana. Gabriele è ancora fisiologicamente più indietro rispetto a coloro che hanno svolto tutto il ritiro, non solo dal punto di vista fisico perché era abituato a dei carichi di lavori diversi, delle richieste diverse, ma anche dal punto di vista delle conoscenze. Però dispone delle qualità che potrebbero essere estremamente pericolose e fastidiose per i centrali dell'Intel. Quindi ho dei dubbi, ancora la formazione non è assolutamente stilata. Sappiamo che sia Nigel che Daniel stanno facendo bene. Dobbiamo però, io non sono solito, valutare la partita solamente nella parte iniziale, ma cercando anche di incidere dal punto di vista sia della qualità che anche dell'intensità a partita in corso. Quindi valuteremo tutta la strategia di gara fino all'ultimo minuto disponibile per poi cercare quelle che sono le sensazioni più positive per entrare dal primo minuto o per coloro che dovranno poi far svoltare la partita a partita in corso. Qualche interprete potrà cambiare, però, ripeto, sono valutazioni che ci lasciamo anche fino all'ultimo minuto disponibile perché ci confronteremo anche continuando ad analizzare video sia di squadra che individuali dei nostri avversari per poi scegliere le caratteristiche più idonee e soprattutto quali spazi voler attaccare per rendere imprevedibile la nostra manovra e soprattutto con quale caratteristiche tecnico-tatte volerlo attaccare. Quindi qualche cambio ci potrebbe anche essere come invece no, perché devo tenere anche in considerazione il fatto che alla prima uscita la squadra ha fatto bene che fa grande densità centrale perché gioca con il rombo, gioca 4-3-1-2 il trequartista è un giocatore estremamente importante si tratta di Schenetti che chiaramente dà pochissimi punti di riferimento è un avversario Schenetti che se riesce appunto a ricevere palla fronte porta è un giocatore che può creare grande imprevedibilità alla manovra perché ha uno contro uno, ha assist, ha tiro da fuori ha giocate imprevedibili quindi è un giocatore sul quale dobbiamo sicuramente fare un'attenzione particolare a attaccanti che abbinano fisicità a grande profondità con caratteristiche differenti l'una dall'altra perché hanno Magrassi, hanno Lescano, hanno Capello, hanno Mercai l'ultima partita ha giocato Morosini che insomma non importa che ve lo presenti ha mezzale di grandissime esperienze come De Sena davanti alla difesa c'è un giocatore di grande esperienza come Paolucci sulla sinistra Barlocco è un giocatore che abbina benissimo quando spinge da centrocampo in avanti ha un grandissimo piede in ampiezza è un giocatore estremamente fastidioso perché sa crossare con grande qualità insomma hanno grandi armi ma è fuori discussione è una squadra costruita per vincere e una retrocessa dalla Serie B quindi noi dobbiamo essere squadra e cercare di limitare i loro punti di forza e andare alla ricerca di quei punti deboli o di quelle lacune sulle quali loro possono soffrire Per uno in particolare forse che è vero che viene da due stagioni un po' così così sarà un campionato ancora più importante Ma io ho un giocatore sul quale credo in maniera profonda lo conosco e l'ho seguito dai tempi del settore giovanile del Sassuolo e lui nel suo percorso anche di settore giovanile ha sempre messo in mostra grandissime qualità tecniche col passaggio nel professionista secondo me ha fatto meno rispetto alle sue reali potenzialità sulle quali stiamo battendo in maniera profonda ecco io cerco di stimolarlo quotidianamente perché se alla sua qualità riesce a mettere della quantità secondo me è un giocatore che può aspirare a categorie più importanti io lo sto vedendo cresciuto, lo sto vedendo migliorato rispetto ai primi giorni è un giocatore che sta ora incominciando a lavorare anche con una certa intensità anche nella fase di non possesso che era la sua lacuna più grande soprattutto sta cominciando a portare anche il contrasto che per lui fino a poco tempo fa era un gesto alquanto che rifiutava quindi io penso che se continua a crescere così sicuramente Federico potrà ambire a palcoscenici più grandi della serie C però è sempre il giocatore il protagonista io ci posso credere come ci può credere qualsiasi allenatore poi deve essere lui a far capire a tutti quanti quotidianamente e ogni domenica che ha intrapreso la strada giusta e che ha maturato un'intelligenza calcistica più profonda e soprattutto che riesca a diventare un centrocampista moderno che possa interpretare benissimo entrambe le fasi di gioco io voglio che la mia squadra al di là di chi incontri sappia quello che deve fare sul campo contro chiunque per noi non esistono mai amichevoli e per noi non devono esistere squadre forti che incutono chissà quale timore il nostro obiettivo è quello di andarcela a giocare ogni domenica su ogni campo cercando di fare il massimo e soprattutto andare sempre alla ricerca di una prestazione molto importante poi loro sicuramente è una squadra che deve vincere il campionato e quindi ogni singola partita contro di loro chiunque preparerà la partita tra virgolette della vita però a noi questo ci deve interessare poco noi dobbiamo essere molto concentrati su noi stessi e su quello che dobbiamo fare per come ho detto prima andare alla ricerca di una prestazione che ci possa permettere al novantesimo di aver fatto qualcosa di positivo al 99,9% non ci sarà la riforma e quindi non avremo la frenesia di andare alla ricerca dei primi cinque o sei posti che imporrebbe la nuova riforma noi a questo punto l'obiettivo è quello di figurare di entusiasmare il pubblico di mettere in mostra calciatori di valorizzare le potenzialità che abbiamo in rosa senza disdegnare nessun tipo di risultato però questi sono gli obiettivi della società grazie a tutti